Questa iniziativa nasce dal forte impatto emotivo che hanno suscitato in me e in tutta la società civile le stragi degli ultimi tempi. Quindi per un sentimento di solidarietà alle vittime del terrorismo che è imperversa in Europa e nel mondo e che purtroppo sta diventando un fenomeno sempre più imprevedibile e sempre più minaccioso. Quali associazioni hanno aderito a questa manifestazione? Hanno aderito a Gende Rosse, Associazione Italiana per l'agricoltura biologica, Associazione Socioculturale Carlo Scaduto, Cotulevi, Libera, Libera Università Tito Marrone, Associazione Ninovia, Quattro Rocce, Spazio Unirico e Trapani per il futuro.